L'Irpini ha gli effetti speciali e ce li ha già nella sua naturale bellezza in una storia infinita, ma possono essere un valore aggiunto per stimolare e esplorare una terra ricca di fascine e risorse. Un viaggio nella storia che diventa un percorso volgente e spettacolare, grazie a video, proiezioni, voci guida e touchscreen. Il museo cambia pelle, questo è lo slogan adottato dall'amministrazione provinciale per presentare le sei nuove sezioni del Museo Irpino installate su tre piani dell'ex carcere borbonico. Il prezioso patrimonio è stato illustrato questa mattina in anteprima da Gemma Savelli, entusiasta e presidente dell'amministrazione provinciale, Domenico Biancardi. È un polo culturale che apre le porte al mondo, ma per conoscere il nostro territorio, dice, bisogna fornire agli utenti gli strumenti idonei affinché diventino protagonisti della nostra provincia anche ai cittadini fuori dalle mura regionali. Sicuramente il titolo che è stato dato il Museo Cambiapelle è attinente. Credo che sia stato raggiunto un grande obiettivo. Oggi bisogna fare una ripartenza per renderlo fruibile e aperto alla città. Tutti ne possano godere perché è un patrimonio che appartiene alla città, ma a tutta la provincia. Credo che negli obiettivi del presidente Biancardi promuovere il territorio, per promuovere il territorio bisogna valorizzare queste bellezze e noi abbiamo questo tesoro. Il fine dagli effetti speciali, dice. Sì, in linea con l'innovazione, il new how che è tanto caro ai giovani. Noi a loro ci rivolgiamo, in linea anche con altre iniziative assunte con l'amministrazione Biancardi, tipo la possibilità per le scolaresche di visitare i luoghi meravigliosi della nostra provincia, del tutto gratuitamente. e abbiamo candidato così anche l'ex carcere borbonico a centro propulsore di ogni attività culturale di qualità. Con questo nuovo allestimento museale, multimediale e innovativo intendiamo rivolgerti... Grazie. Grazie. Grazie.